La boutique del pane. Pane caldo dal 1956. Il ricorso inoltrato dall'Olimpia agnonese, inerente alla partita del turno preliminare contro la formazione pugliese, la vincente affronterà tra le Muramiche e gli Aquilotti nei 32esimi della manifestazione tricolore. Sempre mercoledì prossimo si giocherà pure l'altra gara rimasta in sospeso, quella tra la Frattese e la Gelbison. Il calendario dunque propone due incontri in trasferta per la squadra di Lungo, dove fin qui non ha proprio brillato, almeno sul piano dei risultati. Per non allontanarsi troppo dalla vitta in campionato e non abbandonare anzitempo la Coppa Italia, però, il trend bisognerà invertirlo nelle prossime due uscite, a cominciare proprio dalla trasferta di San Cataldo, nel cuore della Sicilia, dove la Cavese andrà a caccia della necessaria continuità, come conferma ai nostri microfoni il giovane attaccante Simone Golia. Era una partita dove dovevamo dimostrare ai nostri tifosi dove ci siamo, che in casa comandiamo noi. Anche se i primi punti fuori casa ancora non li abbiamo trovati, però in casa siamo una grande squadra e dobbiamo continuare così anche fuori. Serve più cattiveria, dobbiamo entrare in campo come siamo entrati le partite che abbiamo giocato in casa. Ancora fuori casa non siamo riusciti a portare i punti e noi questo lo vogliamo, ci dobbiamo credere anche perché vincere aiuta a vincere e dobbiamo avere continuità. Grazie. Grazie. Grazie.